Allora, rientrami in onda, sono le nove e tre minuti, vi voglio, come dire, introdurre a questa seconda ora di trasmissione, però in realtà prendendo un po' il via dall'argomento con cui invece abbiamo utilizzato per iniziare questa disamina di notizie del giorno, ho appena parlato insomma del risultato di questo summit della Nato, in particolare si è parlato di questo discorso di Joe Biden che da un lato ha riportato a galla parole risalenti alla guerra fredda, dall'altro insomma un po' chiamato, lanciato una chiamata alle armi verso i suoi alleati in maniera insomma piuttosto, come dire, insomma parole piuttosto pesanti. Tutto questo fa seguito però ad una decisione di qualche giorno fa della Casa Bianca che ha fatto alzare molti sopracciglia anche all'interno della stessa Nato, ovvero la decisione di inviare le cosiddette bombe a grappolo in Ucraina, che è un tipo di armamento che è vietato in molti paesi, ma non negli Stati Uniti, ormai da diversi anni. Per ragionarci sopra raggiungiamo ancora una volta Francesco Vignarca di Rete Pace e Disarmo, bentornato sul RBA. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, appunto, io ho fatto questa introduzione, non so se ho colto esattamente nel segno, insomma, qual è la storia? Che cosa sono esattamente queste bombe a grappolo? Come mai sono vietate in buona parte del mondo? E forse la domanda più complicata è perché non lo sono invece negli Stati Uniti? Perché purtroppo gli Stati Uniti non sono parte delle principali convenzioni di disarmo umanitario che sono presenti. Gli Stati Uniti non fanno nemmeno parte del trattato di Ottawa sulle mine antipersona, tanto per dirne una. È vero che però, ed è questo importante sottolinearlo, queste convenzioni, questi trattati hanno comunque avuto un impatto sugli Stati Uniti perché hanno cambiato, ad esempio, la loro postura, come si dice, militare. Sulle mine antipersona gli Stati Uniti dicono noi in tutte le parti del mondo aderiamo ai principi della convenzione tranne nella penisola coreana dove lì per motivazioni storiche di situazione strategico-tattica non possiamo derogare. Quindi questo cosa vuol dire che da un lato è opportuno continuare quella che si chiama universalizzazione dei trattati cioè renderli norme cogenti per tutti, ma non dobbiamo fermarci al fatto che magari questo trattato o quell'altro trattato non sia del tutto approvato. Ed è per questo che la decisione recente di inviare bombe a grappolo in Ucraina da parte dei Stati Uniti è problematica perché negli ultimi anni anche gli Stati Uniti si erano comunque allineati ai contenuti della convenzione di Oslo derivante appunto dal processo di Oslo che aveva portato nel 2008 poi alla messa al bando delle munizioni cluster. Attualmente sono 122 i paesi, anzi forse 123 i paesi che aderiscono a questa convenzione tutti i paesi europei fondamentalmente lo fanno tranne la Polonia purtroppo fuori da questa convenzione ci sono paesi importanti non solo gli già citati Stati Uniti ma la stessa Russia, anche l'Ucraina, l'India, il Brasile ecco questo speriamo che adesso con la nuova gestione di Lula si possa arrivare invece a un cambio in questo senso visto che lo stesso Brasile ha già invece detto che aderirà ad altri trattati di disarmo per cui è davvero importante arrivare ad estensione perché di cosa si tratta? Perché la società civile internazionale ha voluto arrivare alla messa al bando prima delle mie antipersone e poi delle munizioni cluster? Perché sono chiaramente armi inumane, indiscriminate e che sono contro quello che è anche il diritto umanitario internazionale cioè le regole su cui si può fare la guerra la regola principale è che tu devi essere in grado sempre di discriminare tra un civile e un militare cioè tra un obiettivo legittimo, quello militare, e un obiettivo illegittimo e ovviamente le mie antipersone a questa cosa non sono in grado di farla e non sono in grado di fare nemmeno le bomblets cosiddette cioè le submunizioni che derivano da una cluster una cluster fondamentalmente è un missile, è un ordigno che a un certo punto nel suo percorso verso l'obiettivo si apre e rilascia da alcune decine ad alcune di centinaia di piccole bombe, submunizioni appunto, che devono poi dispiegarsi sull'obiettivo il problema è che si dispiegano su uno spazio che può essere di alcuni campi di calcio tanto per darci un'idea molto facilmente pensabile da tutti e soprattutto che una parte di queste bomblets non esplode trasformandosi di conseguenza in una mila antipersona peggio ancora perché non è nemmeno una mila antipersona disposta in un luogo perché c'è una motivazione, perché è stato scelto di metterla lì ma perché ovviamente capita che cada in questa situazione gli Stati Uniti dicono che le più recenti submunizioni a grappolo che non esplodono sono circa il 3% del totale di quelle che vengono aperte ma la pratica, i casi effettivi ci dimostrano che tale percentuale arriva fino al 10, 12, 14% e quindi fondamentalmente usare delle munizioni a grappolo comporta come conseguenza quasi automatica il fatto che tu stai spargendo campi minati sui territori e considerando che purtroppo nella guerra in Ucraina anche il territorio ucraino è parte del fronte perché c'è stata l'invasione stiamo parlando quindi di rendere inutibilizzabili per decenni dei territori ucraini sembra proprio una scelta sbagliata sotto tanti punti di vista Esatto, sì, come dicevi tu, l'idea di fondo è quella di evitare l'attacco sul civile per quanto riguarda tutti gli altri tipi di armi quella è una descrizione di chi lancia l'attacco perché noi stiamo parlando di attacchi su aree civili fin dall'inizio di questa guerra in Ucraina però si tratta di armi che teoricamente possono essere indirizzate con molta precisione su obiettivi militari invece ciò non sta accadendo per quanto riguarda mille antipersone e bombagrappoli invece la volontà va fino a un certo punto perché quello che capita capita Esatto, e soprattutto consideriamo quello che dicevano delle mini antipersone negli anni 60 e 70 agli eserciti sono soldato perfetto non mangiano, non bevono, non dormono, fanno sempre la guardia però in realtà non sono perfetti come soldato perché non hanno la possibilità di decidere una volta che sono lì, sono lì chiunque ci può saltare sopra bambini, donne, civili che passano per caso e quindi capite che è proprio strutturalmente che inviando, dispiegando queste bombe tu stai violando le norme di guerra perché lo dici dall'inizio che non sei in grado di discriminare non è una cosa che uno può dire anche se ovviamente con la precisione degli ordini di oggi è difficile sostenerlo che in quel caso è capitato, purtroppo io volevo colpire un obiettivo militare ma ho colpito un obiettivo civile in questo caso già l'uso, già mandare questo tipo di ordigni dimostra che tu già non lo stai facendo questa discriminazione e quindi che sei, non stai aderendo a quelle che sono le norme sul diritto umanitario internazionale sulla possibilità, il cosiddetto ius in bellum cioè come si può fare la guerra parlando di questa guerra nello specifico durante la narrazione di questo conflitto fin dall'inizio c'è stata questa parola che è volata nel ragionamento sulla guerra ovvero quella di tabù quelle armi tabù quel tipo di armamenti che in un primo momento vengono assolutamente escluse dal discorso e che poi invece man mano vengono incluse se ne è parlato con i carri armati a un certo punto c'è stata una forte ostilità rispetto all'invio di carri armati in Ucraina e invece poi al contrario c'era la gara che ne inviava di più lo stesso sembra che sta succedendo per i briget da combattimento che anche in questo caso insomma c'è stato questo discorso quantomeno per quanto riguarda le guerre a grappolo certo gli Stati Uniti hanno superato un loro tabù per come la stiamo raccontando quest'oggi però ecco la convenzione internazionale fa sì che con ogni probabilità non verranno imitati da nessun altro paese tipo ad esempio oggi la notizia è che la Germania continua a mantenere le distanze anche l'Italia comunque il governo italiano ha specificato la propria posizione questa sembrerebbe essere una linea un po' più solida sì anche perché è un obbligo di legge se aderisci alla convenzione non solo devi eliminare questo tipo di sistemi d'arma ma nella convenzione stessa c'è obbligo per gli stati parte di promuovere i principi della convenzione quindi non possono dire noi non ce l'abbiamo però altri non ci interessa se li stanno utilizzando devi esprimerti dicendo che per noi è sbagliato e che quindi in particolare se sei un alleato come nel caso degli Stati Uniti all'interno della Nato dovresti farlo il problema è che quanto hai giustamente detto rispetto alle retoriche di questi mesi non solo si è accompagnato al fatto del no no queste armi non le diamo sono troppo pericolose sono problematiche adesso invece non solo si consegneranno i Leopard 2 e i carri armati non solo si consegneranno ed è proprio una decisione di questi giorni i cacciabombardieri ma si sta iniziando a ragionare sui missili a lunga media gittata quindi con la possibilità di trasformare delle situazioni più di natura difensiva diciamo così in natura offensiva e che quindi una situation possibile ma che questa retorica del no no è troppo pericoloso e poi si sgretola è accompagnata anche al fatto che a un certo punto si decide di consegnarle queste armi perché dovrebbero essere quelle decisive quelle che risolveranno quelle che porteranno un cambio complessivo e invece non cambia mai niente continua a esserci purtroppo una carneficina continua a esserci purtroppo una situazione problematica e nonostante appunto il cambio di retoriche che viene accompagnato così quasi come uno scrollare di spalle nei giorni scorsi un editoriale di un importante giornale italiano diceva vabbè gli strateghi dicono che solo con le cluster si potrà si potrà cambiare la situazione sul terreno nessuno che mette in questione perché come chi sono questi strateghi cioè viene dato per scontato il rischio vero e purtroppo anche una dichiarazione di Vilnius di questi giorni ci preoccupa nel senso è che a un certo punto qualcuno possa avere la malsana e malagorata idea di dire solo le armi nucleari potranno cambiare la situazione sul terreno quello è il livello finale di escalation purtroppo è molto presente e vi dicevo che appunto proprio in questi giorni la Nato tra i vari documenti che sono stati rilasciati nel vertice di Vilnius è rilasciato uno proprio sulle armi nucleari che preoccupa molto perché reitera questa decisione già presa da tempo di considerare l'arma nucleare cruciale per l'alleanza nonostante ipoteticamente si dica che la Nato vorrebbe un mondo libero delle armi nucleari non solo per la prima volta viene detto molto esplicitamente l'importanza del cosiddetto nuclear sharing cioè del dispiegamento di armi statunitense in Europa ci sono in Italia nei Paesi Bassi in Belgio in Germania contestualmente condannando la stessa cosa che la Russia ha fatto sulla Bielorussia portando delle proprie testate ed è questo doppio standard che chiaramente non funziona non si può continuare a criticare le minacce e le minacce d'uso che sono gravissime da parte della Russia di armi nucleari contestualmente facendo delle cose che se non sono a quel livello perché non sono così espliciti però fondamentalmente continuano a dire che la deterrenza per la Nato è fondamentale che c'è una necessità veramente di essere molto forti molto decisi nel deterrente nucleare nella deterrenza addirittura l'alleanza dice che ha una volontà di utilizzare le armi nucleari in caso di attacco con la determinazione a imporre all'avversario costi inaccettabili cioè se non è siamo a livello di Medvedev che dice vi sparo le bombe però se tu stai dicendo che sei disposto a dare all'avversario dei costi inaccettabili stai alzando un po' il livello di deterrenza che non è più solo una teoria ma diventa una minaccia allora capite che nel contesto di un escalation di un cambio di decisioni su molte armi che prima venivano considerate impossibili da dispiegare su quel territorio e poi piano piano dovrebbero essere la prossima carta per cambiare la situazione ecco il rischio il pericolo che si arrivi a quelli nucleari anche sulla stregua sulla scia di queste dichiarazioni un po' un po' esiste ed è veramente qualcosa di cui tutti dovrebbero preoccuparsi tra l'altro secondo me le mancanze le falle all'interno di quel discorso sul fornire armi decisive sono poi in realtà sottolineate dalla stessa Nato perché il motivo per cui non è stata ufficializzata una data per l'ingresso dell'Ucraina nella Nato e che non si potrebbe aggiungerla nel momento in cui si trova in guerra e quindi si dà per scontato che questa sarà una guerra lunga e quindi paradossalmente si smentisce la decisività delle stesse armi che vengono inviate l'unica decisività è che queste armi si accompagnano all'unica cosa l'ho scritto anche in alcuni articoli in questi giorni su cui veramente c'è stata convergenza a Vilnius perché diciamocelo c'è la divisione sulle cluster bomb c'è il problema della Turchia che mercanteggia aerei per sé per poter avere la Svezia aderente c'è il problema che non si è riusciti a trovare una leadership e quindi Stoltenberg il segretario generale è stato procrastinato e questo dice tanto cioè se non ci si mette d'accordo nemmeno sul nome di chi dovrebbe coordinare come segretario generale ecco tutto questo esiste c'è un'operazione di machillage ma in realtà fa capire che se anche la Nato non è a livello di morte cerebrale come nel 2019 aveva dichiarato Macron però sicuramente ha dei problemi l'unica cosa su cui si converge è quella delle spese militari aumentiamo le spese militari bisogna aumentare le spese militari bisogna crescere le spese militari non si capisce perché non si capisce questo cosa comporterebbe di diverso visto che già oggi per esempio la Nato spende ogni anno 14 volte in più della federazione russa ogni anno quindi c'è già una disparità enorme in tal senso ma è chiaro che invece se tu metti insieme l'aumento di spese militare che se lo devi fare in poco tempo vuol dire comprare nuove armi con l'invio di nuove armi è chiaro che in mezzo ci sta chi ci guadagna che è l'industria militare e non a caso a un certo punto anche lo stesso Biden nei giorni scorsi ha detto attenzione guardate che noi dobbiamo mandargli queste armi perché non abbiamo più nient'altro da mandargli perché abbiamo finito le scorte ma capite bene che decidere di andare su un'arma inumana indiscriminata come abbiamo descritto le cluster solo perché mancano altre armi è veramente e altamente preoccupante e di conseguenza è chiaro che questa cosa sull'arma decisiva è una foglia di fico in questo senso io ricordo sempre purtroppo non si può mai sapere quello che succede in una guerra però cosa uno pensa all'inizio che prospettive ha è fondamentale alcuni amici di alcune organizzazioni diciamo partner con cui lavoriamo negli Stati Uniti mi avevano riferito a febbraio dell'anno scorso quando la guerra è iniziata di alcune loro chiacchere con dei diplomatici del Dipartimento di Stato la previsione del Dipartimento di Stato per la guerra in Ucraina era 10-15 anni di guerra già l'avevano bene in chiaro già quello che dicevano loro era così con tutti gli elementi che hanno capite bene che è molto preoccupante e capite bene che però questo vuol dire che non si stanno facendo nemmeno gli sforzi per arrivare a una soluzione della guerra che poi alla fine colpisce ovviamente soprattutto le popolazioni esatto sì gli sforzi sono tutti impegnati sugli armamenti sullo sforzo bellico e non tanto su altri tipi di direzioni ci sarebbe moltissimo da dire ancora ci sarebbero molti argomenti da aggiungere poi dopo non abbiamo più il tempo sono già le 9-18 minuti quindi magari rimandiamo il proseguimento della conversazione ad un'altra volta ringrazio tantissimo ancora una volta Francesco Vignarca per questo sguardo lampante sulla situazione grazie mille alla prossima grazie a voi a presto noi ci prendiamo adesso una breve pausa un po' di musica e poi andiamo sulle altre storie del giorno grazie a voi Grazie.